Io erano oltre dieci anni che avevo problemi con le gengive che ho dovuto alla paratontite e purtroppo nel tempo mi è stato impossibile curarli immediatamente, quindi ho trascurato un po' e mi sono ritrovata alla fine non potendo più mangiare, sanguinamento, pus, tutte difficoltà a livello anche nel parlare con le persone, quindi c'era una sofferenza veramente importante per questo problema che avevo. Mi sentivo inadeguata prima di tutto perché a volte in difficoltà nel rapporto con le persone. Dovevo rinunciare anche a una normale alimentazione, quindi mangiare cose morbide e non assaporare più quei sapori di una volta perché proprio mi era impossibile masticare. Io consiglio al 100% di iniziare, di non aspettare, di non aspettare troppo se si ha la possibilità di iniziare subito perché più si aspetta e più la situazione peggiora a livello proprio di patologia e più iniziano anche magari timori, uno si fa più domande, uno si chiede, si domanda, dice ma forse faccio la cosa giusta. Io consiglio nel momento in cui si decide di iniziare subito, mi sento un'altra persona, una gioia al di là della possibilità di poter sorrire di nuovo riesco di nuovo ad avere una vita sociale normale, quindi poter scegliere pure andando nei ristoranti pietanze normali, sorridere quindi con le persone. È una gioia inescrivibile, come se fossi rinata.